Sì, sì, complimenti soprattutto ai ragazzi perché veramente hanno giocato bene dal primo all'ultimo minuto, hanno rispettato tutte le tattiche che abbiamo preparato e secondo me dietro questo risultato ci sta un gran lavoro da quattro anni che sto a Lanzara, dalla società, dall'atleti, da tutto lo staff, da primo all'ultimo. Ecco, è un grande risultato quello ottenuto quest'anno, avevate già centrato la promozione in Serie A Siver ma questo titolo Under 20 ha un sapore speciale. Sì, sicuramente speciale perché quattro anni che lavoro con questo gruppo, oggi l'hanno incoronato con titolo italiano, sono orgogliosissimo di questi ragazzi, se la meritano tutta. E non tanto complimenti al Cassano perché veramente lo apprezzo tantissimo quella società che da anni ha dominato scena italiana. Ecco, si è spesso detto che, e non è assolutamente un falso, che Cristian Malone, tuo figlio, sia un giocatore fuori categoria. Ma la dimostrazione dell'ottimo lavoro l'avete offerta proprio nel momento in cui Cristian in questa finale, con tre espulsioni temporali, ha lasciato la squadra quando mancavano ancora 12 minuti e tutto poteva succedere. In quel momento avevate soltanto tre gol di vantaggio. Lì è venuta fuori la squadra, senza la sua stella. Sì, esattamente. Cristian sicuramente ha le sue qualità, ma la forza di quella squadra è la forza di gioco, di gruppo, degli allenamenti che hanno svolto. Alla fine ha vinto il gruppo perché un giocatore non vince scudetto o partite. A chi dedichi questa bellissima vittoria? A mia famiglia, soprattutto a mia famiglia e questo qui. A mia famiglia, soprattutto a mia famiglia e questo qui.